E Maninkine e Sona? No, 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 guys, no. No, no, no. Non è giusta la mia vita, non è giusta. Sona di prima e Zeral di prima, let's go. We got this, we got it. Poi stavolta non ho preso dei Champions e sembrano ok, normali. Cioè, normali, oddio. Vai che mana quella Sona, poi, cioè, voglio, voglio, voglio tipo buttarmi dal ponte. Però vabbè. Per l'olio è meglio Blitz o Professor? Sono la stessa cosa, hardy, penso. Credo che non ci sia una differenza, forse solo la grafica. Sona player che gioca Pyke. Ma siamo sicuri che sia un Sona player, perché prima era disgustoso un Sona. Anche il Champions chieda meccaniche particolari. Il ragazzo gioca Jax, Pyke, Riven, Blitz. Ehi, ciao Malox. Salve, salve, buon dì. Ok, si hanno Blitz e ci invadono. Ho paura, chat. Toxic. In che senso Toxic? Io speravo... Speravo Picass e Zerall, onestamente. Gran Picass e Zerall mid. Abbiamo Jax, siamo forti a livello 1 in realtà. Abbiamo anche Pyke. Ma il nostro livello 1 è molto forte, dovremmo invadere. Abbiamo Belkot's mid. Va bene, va bene, va bene. Toxic. Ma certo che sono Toxic! Certo che sono Toxic con Jiren mid. Con Jiren mid, guys. Con Jiren mid, che mi gioca a Ezzer al mid. Quando abbiamo Sona, Seraph in bot. E adesso ovviamente ce l'ho nella mia rank della loser che non esiste. Ok, però... 3rd mi c'ho in sto game. Mi si è tirato al grande con la QDGFF. Fidelo clickbait. Ah. Non volevo prendere vai perché mi hanno Graves. Boh. Il prossimo Gary giochiamo vai, dai. La BD vai, quella lì è troppo divertente. Solo che... L'ultimo game è stato... Vabbè. Non parliamo... Non parliamo dell'ultimo game, ragazzi. Good points, good points. Giusto? No toxicity. No bad vibes. Ah, è scappato un golem. GG. Abbiamo perso per colpa mia. Sì, sì, è colpa mia nel game di prima, certo. Ah, 100% colpa mia, ragazzi. My bad. Hit good. Sesse forte sali. Una roccia orfana, sì. È brutto, brutto momento topside dietro il muretto. Scene brutte. Quello sarà tipo Sasuke, sarà. Si vendicherà. Così è un po' meglio, capo, perché ti doverai più red e decidi meglio cosa fare dopo. Cioè, poi ti puoi fare gank top, puoi fare gank mid, sei più vicino. Essendo al centro ti puoi spostare meglio e decidere meglio cosa fare. O semplicemente rimane a tornare a continuare. E là, ciao, tricerà dopo come stai, bentornato. Ho scammato qualche resab, mi sa, prima. Dopo rimediamo, ragazzi. Grazie, scusate ancora. Ero impegnato a... Ah, devo alzare il volume dal mixer del game. Non si sente la partita. Allora, allora. Vediamo un po', vediamo un po'. Attenzione al pique. Eh, te l'ho salvato. E' tornato in. Eh, ho provato a flashare per bloccare l'auto, ma... Non ha funzionato. Penso abbia sbagliato Twitch. A parte il fatto non doveva nemmeno tornare in, onest. Cioè, era... Lucky lì ce l'avevamo. Nice dragon, body block. Eh, ci ho provato, bro. Mi spiace. Cioè, lui... Lui non aveva motivo di tornare in, onest è suicidato. Però io ho provato a salvarlo e... Lucky. Era comunque un buon tentativo. What gap? What gap? Hai visto? In Sazona si può giocare a League of Legends, assurdo. Si può giocare anche... Anche con Sazona League of Legends, in realtà. E basta che qualche altra line sia giocabile. Va bene. E... Qui c'è Blitz. Di lì ce dovrebbe essere Graves. Mmm... Non lo so, quasi quasi full clear un attimino di nuovo. Ah, però ci serve questo qua. Ci serve Bike. Ibollocco l'auto. Vitto High. Star Carvest. And we're chilling it. Voglio fare l'obiettivo o voglio fare? Ah, però c'hanno la ward, hanno... La visione del coso. Capiamo, 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 ragazzi. Siamo a fare gank top into objective. Anche se in realtà... A un certo punto dovrei regolare, suppongo. Però non gli voglio lasciare i void, Scrooops. Non voglio nemmeno lasciare un orfano come prima, possibilmente. Passiva staccata. Livello sexante, guys. Watch out. Eh, purtroppo mi sa che dobbiamo chi va a fare. Scrooops. Sante livello 6. In realtà abbiamo Belkoth 6. Cioè, se Belkoth viene a fare... E li ammazziamo tutti, tipo. Che fight particolare? Ma, guys. Ma non possono fare questa roba, siamo d'accordo? Eh, ma che stanno facendo gli avversari, esattamente? Vabbè, vabbè, restiamo, 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 restiamo. Restiamo, restiamo. Oh, guys, guys. Guys. Non ho mana, non ho vita. Guys. Sarebbe una mano. Non ho item, tra l'altro. Non mi piace tanto questa situazione, guys. Ma, per no, nemmeno il flash. Sono un cerbiatto che è più morto che vivo. Eh, è il Grey, è il Drago. Allora vi propongo una cosa, vi propongo una cosa, ragazzi. Vi propongo una cosa, vi propongo una cosa, ragazzi. Siccome Grey si è al Drago, no? E adesso è regolato, no? Vuoi che arrivi in tempo a difendere il suo Blue Buff? Sarebbe assurdo, sarebbe, siamo d'accordo. Tanto comunque qua ci mettono una ward. Arie non ha la R, X-Stante non ha la R. Mare che va trotto via con le mie zampette. E che fai, non lo proponi un Gunk Topside? Perché il Blue Buff mi fa recuperare mana, ragazzi. Io la R ce l'ha up, X-Stante R non ce l'ha up. Parliamo, parliamo di questo Gunk Topside. Oppure Grompino? Grompino? Non ripresenta il Grompino, no? Bruttissimo. Vabbè, andiamo a Gunker Topside, andiamo a Gunker Topside. Let's go for it, let's go for it. Ciao Giancarlo. Bro, bro, Gunker. Oh, Jax. Jax. A scemo. A scemo. Madonna, io mi faccio danno. Non ho item. Cringe. Adesso li metto a dormire. Poi ti ho fatto una bastonata sul cranio. Vabbè. Allora, ragazzi. Parliamo di full clear. Parliamo di full clear. Che dite, ragazzi? Parliamo di full clear. Parliamo di full clear. Topside into base. Dai, poi basta. Giuro, giuro solo la topside. Solo la topside. La botside recolle e poi la clear. Solo la topside. Solo la topside. Solo la topside. Giuro, solo la topside. Ho due smite, guys. Ho due smite. Si va subito. Ci vuole un attimo. Ci vuole. Guarda, nemmeno se siete accorti già ho clear out. Guarda qua. Gunk me. No, no. Basta, basta, basta. Adesso regol. No, niente full clear. Basta, basta. Lielo 7. Devo regolare, guys. Basta. Ciao, Algex. Come stai? Cosa dobbiamo prendere? Recommended. Oddio. No, devo provarlo troppo. Cioè, lo addormenti e il tizio brucia mentre è addormentato? Fighissimo. Però 600 di mana mi stai dispregato. 600 di mana cringe, onestamente. Non mi serve a niente il mana. Cosa altra potevo prendere che non dava mana? Legge tu altesima cosa, penso. Vabbè. Però voglio provare perché è divertente. Objective up in 1.20. Perfetto. Ah, potevo evitarlo di aver peccato. No, l'ammazzava ma gli faceva un po' di danni in più. Vediamo se brucia. What? Non funziona. Ah, vedi? Adesso è uscita la schifezza. Ma mi sembrava un pre-danno, onestamente. Oh. Penso di dover ricollare, sì. Vabbè, che c'è Jaxante qua? Tipato? I guess. Ti amati sicuramente un po' di hip. Andremo ad andare all'obiettivo, invece. Lo possiamo contestare, anche se Grace dovrebbe essere first. Però, siccome non è il top player, Jax vorrebbe andare lì e startarlo. Ma la mia R non funziona come dovrebbe. O come funziona? Cioè, funziona solo quando si svegliano la mia R. Perché se funziona così è tremenda. Se invece funziona come pensavo... Divertente, no? Non lo so. Ho dei regretti. Mi ha abbandonato, non mi ha abbandonato. Perdi una way, piuttosto. Se vuoi tornare top, adesso vuoi. Ma quanta vita ha il signor Xante? Eh, no, non lo ammazzeremo mai. Le vita Xante, però. Non ci perdiamo nemmeno tempo. Nestamente andiamo a contestare il drago, invece. Jax, TP, bot. Allora, non penso serva più la mia presenza. Dipendo io, top. Ma la posso uccidere, però, ma io do un po'. Priciolo fastidio. Ma lui dà fastidio a me, capiamo. Vai, clear ora la Wale. Eeeh, con quella slow non è tantissima facile. Cioè, non è però facilissima... Great Splash. Sante anche ha plesciato, forse. Comunque, ragazzi, la mia era non sembra funzionare come... Come dovrebbe. Mannaggia, potremmo aver buttato un item... Da qualche parte. Tipo nel cesso. Vabbè, vabbè, it's fine. Gli avversari sono bad, vinciamo lo stesso. Eeeh, questo mi dà la... Prendi la torre. Prendi la torre, ti prego. Vai che tanto... No, la torre, la torre. Bro, ce la fai. Criminale. Vai che brucia, nice. Facciamo una build ambigua, facciamo, su Lilia. Facciamo anche Storm Surge, Shadow Flame, Boots. E ancora P, boh, probabilmente lo è. A vendere non si perdono troppi gold. Hanno cambiato il fatto che se vendi perdi un sacco di gold. Come funziona? Capiamo. Hanno modificato qualcosa? Non lo sapevo, a riguardo. Allora. Ci sarebbe l'era il digno da prendere. Ma il Drago, la prima l'hanno fatto i miei teammates prima, quando l'hanno uscito Grails. Allora bisogna andare a farlo, mi sa. Andiamo, andiamo. Non c'entra nulla con Lilia. Boh, proviamo. In genere no, dovresti evitare tutt'altro. Mascara, Mascara, Rilai, Zonia, Cosmic Drive. Quelli sono gli oggetti di Lilia. Infatti guarda, tra l'altro non ho HP così. Stranissimo. Vogliamo farci l'obiettivo, guys. Che dite? Va bene. Tra un po'... Non riesco a capire quanti danni ho in questa build. Non mi sembra tanti, ma qualcosa dovrei farla, non so. Un po'. È una bella War Need che fa sempre comodo. Devo aggiungere al troppo di Kai'Sa. Va bene, va bene. Vediamo ancora la doppia di Kai'Sa, non può uccidere. Ma perché dice quando fa danno la tua ultimate? Ah, damaging a champion with your ultimate. No, ragazzi, disastro. It's a disaster. Vabbè, eh... I guess non la builderei. Ma scusami, ma il gioco me la mette tre consigliati? Pensavo facesse... Cioè... Vabbè, io non ho parole. Cioè, il gioco te la mette tre consigliati? Che senso? Scusami. Una... Cioè, funz... Vabbè. L'unica ultimate che non fa danni del gioco, il gioco ti mette consigliati, l'ultimate di Lilia. Perfetto, grazie, grazie Riot. Molto gentile da parte tua. Guarda che funziona. Ma funziona quando... Li sveglio, funziona. Cioè, non ha senso. Io pensavo tipo le addormentano e bruciano addormentati perché... Cioè, tipo le bruciature, tipo anche l'ultima miss fortune, non svegliano la gente addormentata. E quindi pensavo fosse un incredibile combo pazzesca, assurda, sgravata. E c'è una cringiatta atomica. Vabbè. Unlike. Anche meno, anche meno. Stupido. Prima di andare back voglio gli item, ci dovrei essere quasi. No, però speravo questa fosse appunto l'occasione, no? Prendiamo il blue buff, lo doniamo alla squadra. Anzi, solo ha un omino, mi sa. Barst Lilia. Ok, prendo anche questo. Volentieri. Ma in genere consiglio cose utili, tendenzialmente. Il soggetto qua mi sembra completamente useless, ma in genere ti consiglio cose comunque più o meno valide. Ok. Dobbiamo fare il baron. Questo game è un po' boring, siamo troppo più forti. Dove può tankare il baron? Prima di nessuno. No, vabbè. Ce la faremo, ce la faremo. Oh, carine quelle zone. Ok. Ci prendiamo, ci prendiamo, ci prendiamo. Non ho i soldi per i Magic Man Boots. Sad. Baga, ma ci siamo sempre stati. Ci siamo sempre stati. Grande Riot. Non è un problema, non è un problema. Io vorrei, boh, fare un ultimo fight, suppongo. Oh, attenzione il signor Jax. Oh. No, l'ho messa out, so bad. Va bene, va bene. Upsi. Era sicuramente un tantino di hip era questo. Che faccio? Boh, cerco di divertirmi, non lo so. Ultimo fight. Eh sì, perché adesso si trova e poi si fa il surrender, chiaro. Se vendo l'item perdo qualche centinaio di gold. 2000 gold. Che costa? 2004. Pochissimi. Aspia, però ne avevo già un po' 90. 1900. Oh, caspita, comunque è vero. Veramente perdi pochi gold. Cambiare build potrebbe essere ragionevole in generale. Questo che non lo faremo, evidente. Però in generale potrebbe avere senso. Anche late game switchare items è facile adesso. Sì, sì, lo so, con a me. Boh, tanto che ci interessa il fatto che sia una merda di item. Tanto il game è... Stiamo giocando dentro Pippo e Paperino. Stiamo giocando. Quando gruppiamo due secondi chiudiamo. Devo andare a mettere l'herald. 8, 7, 5, 4, 3, 2. Va bene, va bene. Weee! What the fuck? Huh? Huh? I don't know, ragazzi. Sembrava di ver... Oh, andiamo mid, 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 mid. We end this! Boom! Ok, let's go. Vabbè, GG. Dai, vabbè, ma guarda questa che sfrutta il laser. Geniale, pazzesco. Troppo forte. Ah. Dai, ma perché non ci vanno andare? Uh, il backdoor, il back... No, non abbiamo la ward. Va bene, va bene. Winnable, winnable, urlano dall'altra parte. No, solo missions. Come no, in che senso? Ma è la parte divertente, quella. Allora, allora. Sì, sì, è ufficialmente triggerato. Vado, parto, ragazzi. Questo Twitch sembra esperto di trovo. Sembra tipo avere qualche PTSD. Sì, sì, esatto. Sta... Sta agitato, sta... Dai, dai, dai. Beh, diciamo che anche io ho trovato game veramente vinti. Mi è capitato in passato. Ecco qua. Ecco qua. È andata, guys. È andata, è gone, è persa. Eh, ma è scoppiato. No, no, la kill, la kill, la kill. Ma che cosa è, Andy? Ratto maledetto. Cosa è, Andy? Cosa è, Andy? Possiamo boostarci il ki di A. Strano, strano, ragazzi. Senza 0 e mezzo siamo riusciti a chiudere la partita in tempi ragionevoli. Con delle lane su cui giocare attorno. Inaspettata vittoria, inaspettata vittoria. All'esco, all'esco comunque, dai. Continuiamo a stompare. Chignoriamo, chignoriamo, chignoriamo. Twitch. Era un good guy. Più 19, più 19. Ci piace circa. Va bene così, va bene così. Dannati Twitch player. Dannati Twitch player. Ma comunque questo Dead Down, in realtà me lo ricordo, già da un game di ieri, in cui eravamo a 2v8 e cercavano di carriere dalla gente che veramente stava trollando. Forse addirittura c'erano uno... Forse era quello con uno mid e trollava proprio. Non riesci più a salire. Ti posso fare un consiglio, Narutino? Beh, get good, allora. Grazie. 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 Grazie.